ti racconterò una storia piuttosto triste che mi è successa. Spero che non accada mai a nessun altro, ma forse la mia storia può aiutarti se dovesse accadere. Ho sorpreso mia moglie in un hotel e le ho consegnato i documenti per il divorzio dopo. Attualmente sto attraversando un divorzio. Ho notificato mia moglie, Francesca, quattro mesi fa. È molto arrabbiata perché non ottiene la mia casa o le mie auto. Sostiene che non può prendersi cura di se stessa e che le ho fornito uno stile di vita che devo mantenere. Queste erano le parole del suo avvocato. Il giudice ha respinto questa richiesta due volte e da allora mi implora di rimanere sposato con lei. Ho conosciuto la mia futura ex moglie a una competizione di bodybuilding nel 2018. Nessuno di noi ha vinto, ma era una novità per entrambi. Anni prima avevamo entrambi lavorato molto per partecipare a questo tipo di competizioni. Non ci conoscevamo fino al 2018, ma lo abbiamo scoperto l'uno dall'altro durante l'evento. Abbiamo parlato molto e alla fine siamo usciti la mattina dopo per fare colazione. Dopo colazione siamo finiti nella mia stanza. L'attrazione c'era, la connessione c'era. Mi piaceva molto. Ho cercato così tanto di nascondere il fatto che fossi B benestante, ma ha iniziato a farsi delle domande quando l'ho portata all'aeroporto. Non potevo mentire e dire che la mia auto era a noleggio. Le targhe avevano il mio nome sopra. Vivo in Toscana, dove si teneva la competizione, e lei viveva in Lombardia. Prima che scendesse dalla mia auto, mi disse che sarebbe stata molto triste se non l'avessi chiamata. Voleva davvero rivedermi. Le ho promesso che ci saremmo rivisti e le ho mandato un messaggio proprio lì, così avrebbe avuto il mio numero. Prima ancora che tornassi a casa, che era a un'ora di distanza, mi ha chiamato e ha detto che non poteva resistere a parlarmi durante il viaggio di ritorno. Mi ha detto che stava pensando di chiamare al lavoro per prendere una settimana di ferie e prendere un Uber per venire da me. Ho detto, ah, ti sfido. Abbiamo continuato a parlare e ha messo il telefono in muto un paio di volte. Pensavo fosse ancora all'aeroporto. L'ho lasciata lì prima del suo volo perché dovevo tornare a casa. Circa 45 minuti dopo il mio ritorno a casa e dopo aver concluso la telefonata con lei, ho ricevuto un avviso al cancello. Ho guardato la telecamera e ho chiesto chi fosse. Ed era Francesca. Ho detto, come diavolo hai fatto a sapere dove vivo? Ha detto, ho i miei modi. Ti ho detto che facevo la riscossione dei crediti. Posso trovare chiunque. Le avevo dato il mio biglietto da visita e suppongo che fosse tutto ciò di cui aveva bisogno. Ho aperto il cancello e sono uscito per pagare il conducente, ma lei mi ha detto che aveva già pagato e di non preoccuparmi. Siamo entrati, ha lasciato le sue borse e mi è saltata addosso. Ora so che la maggior parte della sua attrazione proveniva dai soldi che pensava avessi. È solo come sono le persone. Nulla cambierà questo. Le donne giudicano gli uomini in base a quanto guadagnano o al loro aspetto, purtroppo. mi piaceva. È bellissima e una ragazza molto intelligente. Ha finito per restare con me per una settimana e per tutto il tempo non mi ha mai permesso di pagare nulla. Ogni volta che uscivamo pagava lei. Era la prima volta per me. Mi ha detto che non voleva che pensassi che mi stesse usando o che volesse solo i miei soldi. Era veramente connessa. È stata una settimana fantastica. Abbiamo anche pianto insieme, per quanto strano e sdolcinato possa sembrare. Mi ha raccontato di come fosse stata vittima di bullismo a scuola e si sentisse sempre brutta, ma quando si è diplomata è sbocciata. Ma mi ha anche raccontato di come abbia cercato di togliersi la vita quando aveva solo 14 anni. Sua madre l'ha trovata nell'armadio con i polsi sanguinanti e ha quasi svenuto. È stata portata d'urgenza all'ospedale e si è svegliata ore dopo. Mi ha detto che ha affrontato alcuni dei suoi bulli quando erano adulti e si sono tutti abbracciati e scusati. Si sentivano tutti in colpa, ma dice che non è niente rispetto a come si sentiva quando non voleva più stare al mondo dopo essere stata presa in giro e persino picchiata. Mi sentivo veramente male e non potevo trattenere le lacrime. Le ho raccontato una storia su come ho visto il padre del mio amico picchiare sua madre fino a ucciderla proprio davanti a noi. Le ha detto che era troppo stanca per fare qualcosa e lui è impazzito dicendo che non ci sarebbe stata nessuna mancanza di rispetto nella sua casa. L'ha colpita più e più volte. Il mio amico e io siamo rimasti lì a piangere. Suo padre ha chiamato la polizia e ha cercato di dire che era caduta ma è stato arrestato. Quell'uomo, per quanto ne so, dovrebbe essere ancora in prigione. Quei bambini sono stati affidati ai servizi sociali e non ho mai più visto i miei amici. Abbiamo davvero avuto una connessione genuina e siamo diventati molto vicini. Durante la pandemia, proprio prima in realtà, alla fine del 2019 mi sono trasferito nel suo appartamento con lei in Lombardia. Lavoro dal mio laptop e il mio team di dipendenti fa la maggior parte del lavoro. Io supervisiono solo le cose. Siamo diventati ancora più vicini durante la pandemia. Mi sono innamorato davvero di Francesca. Cuciniamo insieme ogni sera. Entrambi siamo molto attenti a uno stile di vita sano e ci alleniamo ogni mattina e sera, ogni singolo giorno. Sono diventato molto vicino alla sua famiglia. I suoi fratelli e sorelle mi adoravano. Giocavamo a biliardo a casa di suo fratello molto spesso e uscivamo insieme. Francesca ha conosciuto anche la mia famiglia. L'adoravano. Andavamo avanti e indietro dalla Toscana quando aveva tempo libero o nei fine settimana, ma alla fine ci siamo trasferiti insieme in Toscana. Il giorno in cui si è trasferita, nel 2021, ho chiesto a Francesca di sposarmi. Ha pianto proprio lì nel mio soggiorno. Ci siamo sposati rapidamente. I nostri genitori e fratelli erano presenti, ma era una cerimonia piccola. Una cosa che a Francesca non importava era firmare un accordo prematrimoniale. Quando il mio socio in affari ne ha parlato una sera, ha detto assolutamente, dove devo firmare? Amo quest'uomo per quello che è, non per i suoi soldi. L'accordo prematrimoniale ha sicuramente aiutato perché non può ottenere nulla. Ha cercato di trovare una scappatoia, ma non è successo. Ci siamo sposati nel 2021. Le cose andavano bene. Ha continuato a lavorare. Ha trovato un lavoro simile che poteva fare da casa. Le cose andavano bene con lei e il matrimonio era effettivamente ottimo finché non ho iniziato a viaggiare per conferenze e per motivi di lavoro legati alla mia attività. Si stancava di questo e voleva venire ogni volta. A volte veniva, ma quando non veniva, si arrabbiava molto e mi accusava di tradimento. Ogni volta che viaggiavo per lavoro, ogni secondo in cui non ero in una riunione o a tenere un discorso, eccetera, ero al telefono con lei. A volte nemmeno parlando. Stavo lavorando e lei teneva una conversazione o altro mentre era ancora nel mio auricolare. Ora penso e dico, wow, ha serie insicurezze. Una volta il mio telefono si è rotto la sera prima del mio volo. L'ho caricato un po' prima di lasciare l'hotel. Poi l'ho spento per risparmiare energia perché avevo la carta d'imbarco sul telefono. Appena ho acceso il telefono, proprio prima di dover scansionare, ha iniziato a bombardarmi di messaggi e chiamate. Ho messo il telefono su non disturbare per passare attraverso la TSA. Una volta seduto, ho caricato il telefono con un nuovo caricabatterie che ho dovuto comprare e poi ho tolto il non disturbare. Questa è stata la volta in cui l'ho vista più arrabbiata. È andata fuori di testa dicendo che non aveva dormito, chiedendo con chi stavo facendo sesso, sapeva che la stavo tradendo, eccetera. Era pessimo. Ero esausto a difendermi, quindi ho chiuso la chiamata e ho messo di nuovo il telefono su non disturbare. Sono tornato a casa, sapendo che stavo per affrontare una situazione difficile. Sono entrato e lei era proprio lì nell'atrio, piangendo e urlando. Perché mi fai questo? Perché mi sposi e prometti di essere leale con me solo per tradirmi? Le ho detto che ero esausto e ho spiegato che non l'avevo tradita. Ha iniziato ad annusarmi dappertutto, dicendo che odoravo di un'altra donna. Le ho detto che era probabilmente perché avevo seduto accanto a una sull'aereo. Poi ho detto, non ce la faccio più. Hai vinto. Pensi che ti ho tradito? Allora ti ho tradito. Sono andato via. Ragazzi, questo è il momento in cui avrei dovuto divorziare da mia moglie. Questo è successo a febbraio del 2023. Mi ha colpito alla testa con un vaso. Mi ha fatto perdere i sensi e mi sono rotto un dito. Mi sono svegliato in ospedale con dottori, infermieri e un detective che mi chiedevano cosa fosse successo. Il detective mi ha detto che era chiaro che ero stato colpito alla testa e ha chiesto di cosa stessimo litigando io e mia moglie. Ho pensato per un minuto e ho detto che io e mia moglie non avevamo mai litigato. Il detective ha detto che andava bene. Non avevo bisogno di proteggerla. Lei aveva ammesso tutto. Ho finto di addormentarmi. Alla fine le infermiere hanno portato fuori l'ufficiale. Il mio socio in affari e l'avvocato sono venuti a vedermi e mi hanno detto che Francesca era stata arrestata ma ha detto che quello che è successo è stato un incidente. Non posso credere che abbia funzionato ma quello che Francesca ha detto agli ufficiali è che stavamo lanciando il vaso avanti e indietro per divertimento. Mi sono girato e mi ha colpito alla testa. Sono caduto. Ho detto al mio avvocato che è effettivamente quello che è successo per far uscire mia moglie di prigione ora. Ha fatto come ho detto. Alla fine le accuse sono state ritirate e mia moglie è stata rilasciata dalla prigione. Ha continuato a scusarsi e a ringraziarmi per aver sostenuto la sua bugia per proteggerla. Mi ha detto che mi perdona per averla tradita perché l'ho tenuta fuori di prigione. Continuavo a dirle che non l'avevo mai tradita. Mai. Non ci ha mai creduto. Pensa che l'abbia nascosto molto bene e che sia riuscito a farla franca con il tradimento ma mi ha detto che andava bene. Potevamo andare avanti ma mi ha fatto promettere che non lo avrei mai più fatto. Ancora una volta continuavo a dirle che non l'avevo mai tradita. Non la tradirò mai. Non sono mai stato quel tipo di uomo. Non sono mai stato un uomo che aveva bisogno di più di una donna. Mai. Ma lei non mi ha mai creduto. Fino ad oggi crede ancora che in quel viaggio di lavoro specifico l'abbia tradita. A settembre ho avuto un altro viaggio da fare a Napoli. Ancora una volta non era affatto contenta. Il giorno prima della mia partenza ha detto bene forse mi divertirò un po' visto che so che lo farai anche tu. Quella frase mi ha davvero fatto arrabbiare. Ho preso il suo telefono mentre dormivamo e ho scaricato un'app dove potevo vedere tutto ciò che stava facendo in qualsiasi momento. Quando siamo atterrati è successo il solito. Continuava a chiamare e a mandare messaggi volendo sapere dei miei spostamenti. Tecnicamente avevo bisogno di essere a Napoli solo un giorno. Il mio socio in affari doveva gestire il secondo giorno. All'hotel stavo guardando il suo telefono e stava messaggiando con un certo Marco e stavano pianificando di incontrarsi la notte seguente. Non riuscivo a crederci. Non so se fosse il fatto che credeva veramente che l'avessi tradita e avesse bisogno di vendicarsi o se stesse proiettando tutto il tempo e fosse lei la traditrice. Ho preso un volo anticipato per tornare a casa e ho prenotato una stanza nell'hotel dove dovevano incontrarsi. Ho visto tutto. Ho visto quando gli ha mandato un messaggio dicendo che era arrivata ed è divertente come non mi abbia mandato messaggi o chiamato per tutto il giorno quel giorno. Prima ho visto che gli aveva mandato un'immagine delle sue parti intime dicendo che era appena rasata. Quindi avevo già la mia stanza mentre lei si stava ancora preparando per andare da lui. Una volta visto che gli aveva detto che era arrivata e lui le aveva dato il numero della stanza sono saltato su e sono corso all'ascensore. Ero così arrabbiato però perché avevo dimenticato la chiave della mia stanza. Sono corso indietro nella mia stanza sperando che magari il codice fosse il numero della stanza o qualcosa del genere ma non lo era. Poi mi sono ricordato che avevo la seconda chiave della stanza in tasca. Sono corso all'ascensore sono sceso nella hall. Se non l'avessi trovata nella hall sarei andato comunque alla stanza. Appena l'ascensore si è aperto nella hall al primo piano mia moglie splendida è entrata nell'ascensore e si è spaventata. I suoi occhi erano enormi. Ho detto che hai in programma per stasera? Era congelata. Ho detto lascia che ti aiuti. Piano 17 giusto? Stanza 1723? Era paralizzata e immediatamente è caduta in ginocchio piangendo. Non è giusto. Tu mi tradisci e ora sono io la cattiva persona perché voglio divertirmi un po' anche io. Ho detto per la milionesima volta non ho mai dormito con nessun altro dal giorno in cui ti ho incontrato. Nemmeno una sola persona. Si è alzata e ha chiesto lo intendi davvero? Ti credo tesoro. Stavo per fare un grosso errore. Andiamo solo a casa. Mi dispiace? siamo arrivati al piano e le ho detto di andare da lui. Ha detto no per favore non buttarmi via così. Per favore tesoro ti amo. Non voglio lui voglio te. Ho detto no hai già scelto chi vuoi? Continuava a dire scelgo te scelgo te. A questo punto eravamo di nuovo nella hall al primo piano. L'ho respinta e sono uscito. Mi ha seguito fino alla macchina. Sono partito. Avevo tutta l'intenzione di tornare perché avevo prenotato una stanza e qualcosa in me voleva picchiare il ragazzo che stava per andare a letto con mia moglie. In realtà non sono mai tornato e ho fatto il check out online in anticipo. Avevo tutto ciò di cui avevo bisogno e sono tornato a casa. Ho cambiato il codice del cancello. Lei non è tornata a casa quella notte. Mentre lavoravo con l'avvocato e preparavo i documenti per il divorzio ho fatto venire dei traslocatori a prendere le sue cose e ho pagato per un deposito per lei. Le ho detto dove si trovava e che poteva andare a prendere le sue cose quando voleva. Mi ha detto che non potevo cacciarla perché era anche la sua casa e ha anche detto che il contratto prematrimoniale non significava nulla. Avrebbe preso tutto da me inclusa una parte della mia attività. Niente di tutto ciò ha funzionato a suo favore però. Il giudice ha respinto tutto due volte chiarendo a lei e al suo avvocato che nulla di tutto ciò stava accadendo. È allora che ha iniziato a strisciare di nuovo da me implorando di andare in terapia di coppia. L'ho semplicemente ignorata. Il divorzio è ancora in corso e lei minaccia di togliersi la vita. Storia vera. Mi piacerebbe tenervi aggiornati su cosa succede ma giudicando dai vostri pensieri su alcuni video potreste pensare che fossi troppo morbido o un ingenuo quando l'ho incontrata. Sono d'accordo lo ero. Ero in preda alla lussuria e si è trasformata in amore. Non avrei mai dovuto sposarla. Ho sbagliato ma sembra che ne uscirò indenne spero. Grazie. Wow amico che storia. Sì speriamo vero? Speriamo. Spero sempre che voi ragazzi ne usciate indenni. Non voglio vedervi feriti. Ecco una cosa. Capisco. Hai detto con i miei pensieri potresti dire che penso che tu sia un ingenuo o un tappetino o qualsiasi altra cosa. No non lo penso. Ecco una cosa. Capisco chi siamo sai. Capisco che gli uomini possono cadere vittime delle bugie di una donna, della sua manipolazione. Sai può parlarti dolcemente, si rende attraente giusto? È carina, ti sta addosso, è interessata a te. Fa tutte queste cose manipolative. Ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia. Ci vediamo alla prossima.